Musica Bella a tutti ragazzi sono Avdino e bentornati sul mio canale con un nuovo video Oggi vi propongo una partita fatta su Deathmatch a squadra, una partita abbastanza carina e frenetica La particolarità di questa partita è che è stata effettuata in live, almeno quando l'ho effettuata io è stata fatta in live Solo che poi riascoltando il fail audio su Sony Vegas ho scoperto che era tutto danneggiato a causa comunque del computer che non era riuscito a registrare al meglio E allora ho deciso di tagliare appunto l'audio e faccio un commentary semplice, comunque la partita è abbastanza carina, non è davvero niente di speciale E si ricollega comunque all'argomento del commentary Allora, dato che comunque molti di voi magari hanno questa curiosità, io vi spiego come gioco a Black Ops 3 Ma non come gioco nel senso bene o male, come gioco nel senso cosa faccio quando gioco a Black Ops 3, per cosa gioco Adesso sono qua per illustrarvelo Allora, dato che comunque io non sono mai stato uno che vuole tutto subito, l'ultima cosa a cui adesso io sto avendo è fare gameplays Fare gameplays ad esempio nuclear o 100+, proprio non me ne può fregare di meno, davvero Non ci sto neanche provando, anche se dovesse uscire sarei di certo contento ma non è il mio obiettivo Quindi non è di certo quello, quello per cui adesso io mi sto cimentando in questo gioco Come sto giocando io? Cosa sto facendo io adesso su Black Ops 3? Allora, partiamo dal presupposto che come già detto prima mi piace giocare come tutte le persone normali Non si ricollega assolutamente per niente al mio essere youtuber Infatti ho iniziato a giocare, ho preso la mia arma, ho deciso di provarne un po' Giocare in modi abbastanza diversi su tutte le mappe, in varie modalità E scoprire un po' com'è il gioco, ovviamente come farebbero tutti Il mio principale obiettivo logicamente è quello di livellare, infatti adesso sono fermo a livello 28 E sto aspettando freneticamente, come si può dire, sto aspettando con furore ecco L'uscita dei nuovi livelli che li sbloccherà fino al 40 Perché sono davvero curioso di vedere un po' come saranno strutturati Altra cosa che ancora devo sperimentare ma che sicuramente sperimenterò in futuro È il cecchino, infatti ho da sempre Sindacal of Duty Modern Warfare 3 Sono stato un appassionato di questa tecnica, ossia dei fucile di precisione Mi sono sempre cimentato in qualche quickscoping feed, in fare qualche comunque mossa figa E ci sono più o meno sempre riuscito Su questo Call of Duty ancora non ci ho provato Infatti alcuni di voi mi hanno chiesto di fare un live col cecchino Ma io ancora non l'ho fatto, questo perché? Perché ragazzi è molto semplice Essendo i primi giorni di beta stanno tutti giocando per livellare Per provare a fare cose strane con le armi E giocare col cecchino sarebbe davvero un suicidio L'uniche persone che comunque devono giocare col cecchino sono le youtubers Ad esempio i fades che devono provare a fare feed o trickshot E quindi in automatico viene fuori la loro bravura nell'essere cecchini Io comunque non mi reputo scarso come cecchino Però non penso di avere motivazioni di non divertirmi giocando già adesso Perché davvero usare già adesso il cecchino non è affatto semplice Altra cosa che comunque mi sto divertendo molto a fare E che sto facendo in continuazione è provare le varifigate delle mappe Ad esempio una cosa che mi ha preso davvero molto A differenza di altri è il camminare sui muri Mi sembra davvero una cosa molto molto innovativa e divertente E boh mi piace Mi ha preso in pratica tantissime volte Anche se non ha senso mi metto a camminare sui muri E provare a fare l'uccisione mentre voli Oppure l'uccisione appena dopo il tuffo in acqua In pratica cose divertenti Sto giocando per divertirmi e per scoprire il gioco Poi ovviamente se nel divertirmi mi escono cose belle da potervi portare Io sono più che contento Perché so che se riesco ad abbinare il mio divertimento al vostro Esce fuori un video perfetto Quindi ragazzi adesso il video sta più o meno giungendo al termine Volevo innanzitutto ringraziarvi Perché è vero che questi miei video sulla beta di Call of Duty Black Ops 3 Vi stanno piacendo molto State lasciando davvero un bel feedback E quindi non posso che ringraziarvi Vi invito a lasciare tanti mi piace anche per questo video Perché mi fa sempre molto piacere E passare dei link qua sotto in descrizione Adesso non ve li ho ancora spammati molte volte Per oggi ce n'è uno particolare Oggi volevo tra virgolette sponsorizzare un'intervista Che ho fatto con Mystic Lui mi ha intervistato E quindi vi invito qua sotto in descrizione A passare dal suo canale E a vedervela Vi lascio il link direttamente del video Passate in tanti mi raccomando Perché a mio parere è davvero interessante Ho detto delle cose anche abbastanza particolari Quindi mi raccomando fateci un salto Ragazzi adesso il video sta giungendo al termine Io spero che vi sia piaciuto Se è così vi invito a lasciare un mi piace Un commento se ancora lo siete E metto a iscrivervi al mio canale Che mi fa sempre molto piacere E come ho già detto in precedenza Passate dai link che trovate qua sotto in descrizione Quindi ragazzi per oggi da Mirina è tutto E bella